Perché missio con i giovani? Innanzitutto è un'esperienza che è già cominciata molti decenni fa, traverso il movimento giovanile missionario, legato proprio alle pontifice opere missionario. E oggi è la fondazione che continua anche questo cammino di formazione dei giovani alla missione. Ma non solo formazione, soprattutto perché si vuole far scoprire ai giovani che nel battesimo tutti quanti siamo dei missionari. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ci ha ricordato che tutti i cristiani sono discepoli missionari, non prima discepoli e poi missionari, ma proprio in quanto discepoli siamo missionari. Anche questo incontro qui ad Assisi, qui pensando anche a Francesco, a Santa Maria degli Angeli, dove siamo, Francesco qui riceve una chiamata particolare, quella di vivere il Vangelo. E di vivere il Vangelo si neglossa. E poi di donare questo Vangelo agli altri. Ed è questo anche che noi vogliamo vivere, ed è questa anche l'idea di missione. Siamo chiamati tutti quanti a vivere il Vangelo e a donare, come direbbe Papa Francesco, la gioia del Vangelo agli altri. E questo attraverso anche i giovani, con i giovani, e anche con tutta quanto il loro carico anche di gioia, anche di grinta, che è proprio caratteristica del mondo giovanile. Perché anche i giovani possano diventare, anche verso i loro coetani, degli evangelizzatori, dei missionari, perché il Vangelo così di persona in persona giunga fino agli estremi confini della Terra, così come è il mandato di Gesù.